I cittadini di Kramatorsk vivono in una città semivuota ed impaurita. Tra molteplici posti di blocco militari, la guerra è tutt'altro che lontana. Le sirene di difesa aerea preannunciano un possibile attacco missilistico russo. Nella scuola elementare non ci sono più alunni. Vuota anche la stazione ferroviaria, dove un missile ha ucciso 57 persone qualche settimana fa. Penso che qui sarà come in altre città, dice un residente. Ci saranno torture, sparatorie, non mi faccio illusioni. Fonti ucraine riferiscono che le forze russe si sono spinte più in profondità nelle zone orientali del paese, spostando due battaglioni tattici nella città di Izium. Intanto il presidente Vladimir Putin avverte i paesi stranieri contro i tentativi di intervento nel conflitto. Se qualcuno dall'esterno si muove per interferire negli attuali sviluppi, creando così inaccettabili minacce strategiche per la Russia, dovrebbe sapere che la nostra risposta agli assalti sarà fulminea. Il comandante della 36esima brigata delle forze navali ucraine afferma che la situazione nello stabilimento a Zovstal, fulcro dei combattimenti a Mariupol, è molto difficile. Nel nostro gruppo ci sono oltre 600 compagni feriti con diversi livelli di gravità. Hanno un estremo bisogno di aiuto medico. Qui non ci sono buone condizioni, non ci sono medicine, non c'è personale che possa aiutarli. Abbiamo dei civili feriti, li aiutiamo come si può. Per le organizzazioni umanitarie, un cessate il fuoco rappresenterebbe il modo migliore per consentire agli ucraini intrappolati di fuggire dalle zone di conflitto, invece dei corridoi umanitari che spesso sono troppo complicati e inefficaci.